La direzione e lo staff dell'hotel Cesius Terme hanno illustrato le attività del centro termale ad ospiti selezionati e alla stampa, presentando i trattamenti sanitari e salutistici in linea con la più moderna medicina preventiva ed integrata. Il resort, situato a Bardolino, sul lago di Garda, ha negli anni sviluppato il concetto del benessere totale, rappresentato da una visione olistica dello star bene. Oggi il centro si è specializzato nell'ambito sanitario e salutistico, proponendosi al più vasto pubblico con attività gestite e coordinate da uno staff medico di primo livello. Le attività sanitarie svolte nel centro termale Cesius, sempre effettuate sotto controllo medico, sono basate principalmente sull'impiego delle acque termali. I centri termali moderni non possono prescindere da un controllo sanitario stringente su tutte le attività che vengono svolte e che sono al servizio dei pazienti. Dopo la visita, ha avuto luogo una dettagliata presentazione di un menù degustazione all'insegna da prima della cucina ayurvedica, ennesimo punto di forza dell'albergo, sotto la guida di un medico esperto qual è Silvano Pomari, a seguire piatti appetitosissimi della cucina del benessere e del territorio, proposti da un vero esperto a livello europeo qual è il dottor Alessandro Formenti. Le cucine del ristorante Benacus dell'hotel Cesius operano infatti con sezioni dedicate alla cucina salutistica dimagrante e ayurvedica. A conferma della cura nella ricerca degli alimenti tipici del territorio e della qualità delle preparazioni, va citato il prestigioso inserimento nella guida Gambero Rosso. Questi cibi sono preziosi oltre che dal punto di vista organolettico e del gourmet, anche perché essendo nati e cresciuti nella zona in cui noi viviamo, sono strettamente legati alle esigenze biologiche del nostro organismo e in linea con le leggi naturali. Una serata di gran classe e di puntuale informazione rispetto alle attese sanitarie, oltre che salutistiche, che un centro termale deve oggi soddisfare. Benessere, relax e tonicità, ma anche attenzione alla corretta nutrizione e ad una dieta fisiologica equilibrata. Insomma, quel benessere, in senso lato, che sembra oggi essere la conquista più ricercata anche in termini sanitari.